Tony Cioli Puviani, trader indipendente, buon pomeriggio Tony e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Alexandra e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. E dunque vorrei iniziare da Piazza Affari perché non mancano notizie positive su per quanto concede naturalmente la ripresa economica italiana dell'Italia naturalmente, il Fuzzi Mib però rimane sotto il range dei 26 mila punti. Quali sono le tue previsioni da qui a fine anno? Guarda, il Fuzzi Mib oggi tutto sommato sta lottando, è molto volatile, non è coerente il movimento che fa, parlo minuto dopo minuto, il movimento del Fuzzi Mib con gli indici americani perché adesso ad esempio in una fase, nell'ultima mezz'ora di discreto miglioramento, ha battuto i minimi proprio circa un'ora fa a 25,270 e in questo momento sta reagendo a 25,4, io mi riferisco a Tempral Future sul Fuzzi Mib, l'indice ricordiamo che al momento quota 300 punti in più, quindi siamo a 25,700 punti e vive di un po' contrastato, da una parte abbiamo la voglia e questa è l'apparenza di riscatto dei bancari, i bancari che effettivamente non sarebbero penalizzati dall'inflazione, non sarebbero penalizzati dal tapering e forse potrebbero cominciare a vedere lontano la luce fuori dal tunnel e io mi riferisco sempre a un piccolo incremento dei tassi di interesse che ovviamente non va bene ai mercati azionari ma invece va bene al modello di business della banca tradizionale, le banche tradizionali sappiamo che sono intermediari del credito e con i tassi zero o vicini allo zero il loro margine diventa ridicolo e quindi il business è un po' diventato obsoleto, forse c'è la possibilità di migliorare Timmy. Però volevo sottolineare invece un altro speciale osservato che l'indice del dollaro, stavi parlando naturalmente di una politica monetaria meno accomodante e stiamo assistendo anche oggi di nuovi massimi del dollaro già da qualche mese a quota 94,26 in rialzo dello 0,6% e l'euro dollaro di conseguenza scende all'1,16-12 attualmente, questi sono i livelli attuali in questo istante. Volevo capire che proprio in vista di questa politica monetaria meno accomodante, quali sono anche le prospettive per il dollaro e cioè continuerà questo scenario di rafforzamento? Il dollaro sta in fortissimo rally perché il mercato è un po' a scoppio ritardato rispetto a mercoledì scorso, esattamente una settimana fa c'è stata la conclusione del FOMC con l'intervista e la relazione del Presidente Powell dove ha espresso, ha fatto capire che se l'economia non dovesse andare male il tapering sarebbe iniziato o inizierà effettivamente già da dicembre, ma la cosa più importante è che il ritmo della riduzione degli acquisti, questo vuol dire tapering che è addirittura previsto per giugno 2022 e non dicembre, questo sta a significare un'accelerazione del tentativo di normalizzazione della politica monetaria, questa è la sintesi. Stranamente il mercato non se ne è accorto subito, poi abbiamo visto come alcuni indici, anche sia europei e americani hanno preso determinate legnate e questo lo sta dimostrando anche adesso il dollaro che viene rafforzato da questa politica monetaria su cui adesso gli operatori cominciano a credere, abbiamo visto anche l'aumento dei rendimenti del T-note e delle obbligazioni in generale. A questo punto, mai chiesto il dollaro, può continuare il trend? La palla è data alla lagarta, la lagarta perché è all'euro e quindi se non risponde la BCE con anche l'oro, perché la BCE non ha mai detto niente, è rimasta accomodante, anzi non fa altro che replicare che l'inflazione è simmetrica al 2% e ancora questo obiettivo non c'è e c'è bisogno di manovre sfanzile. Se rimane questa la linea della BCE e nessuno lo può escludere, è possibile vedere anche il dollaro a quote 1,14 ad esempio. Ottimo, questo è veramente interessante, 1,14 l'euro-dollaro sarebbe veramente interessante. Intanto, Tony, volevo ribadire che stiamo notando da qualche giorno, poi non posso non chiederti di ene, oggi mi arrivano veramente troppe domande e so che è un tuo cavallo di battaglia, ma prima volevo capire se bisogna riposizionarsi perché è partito questo reflation trade, ovvero questa rotazione settoriale che è legata un po' al rialzo dell'inflazione, alle pressioni inflazionistiche e dunque come bisogna ritoccare a tuo avviso i nostri portafogli o come bisogna cambiare la tattica di trading considerando che comunque anche Paolo ha detto ieri in corso dell'audizione davanti al Banking Committee che l'inflazione ci sarà per più lungo rispetto alle previste della stessa Fed. Allora, prova a spiegarlo in un minuto, sì, se le cose continuano ad andare in questo modo, poi la sfera di cristallo non ce l'ho, i valori tecnologici, quelli cosiddetti growth, che hanno dei multipli differenti rispetto ai valori value, quelli dell'economia classica, ma il prezzo è molto più alto rispetto all'earning, ovvero l'utile della società che poi si riflette sui dividendi. Quindi quando l'alternativa alle azioni, ovvero le obbligazioni, danno l'idea che possono rendere di più, ma ancora rendono pochissimo, se l'idea è azzeccata, evidentemente il multiplo, cioè questi valori tecnologici soffrono di più dei value, ovvero dei valori tradizionali, come ad esempio le banche, infatti prima abbiamo parlato bene delle banche. Questa è la rotazione di portafoglio. Se uno quindi, e questo io non lo posso escludere, non lo so, se dovesse la Fed dare atto ai propositi, fare un tapering importante, terminare ogni forma di buy a giugno 2022 e magari iniziare con il balance reduction, ovvero la diminuzione degli asset in portafoglio, cosa che per me è impossibile, o addirittura alzare i tassi, evidentemente non dico che crollino i valori del Nasdaq, che però gli operatori, la speculazione andrebbe a fare questo giro di portafoglio, dove ad esempio un indice come l'italiano, o le banche, o gli energetici anche, potrebbero essere addirittura e paradossalmente aiutati dall'inflazione. Quindi questo è il giro che si potrebbe fare. E quindi personalmente, è una mia idea che vale pochissimo, ho avuto già modo di dirlo, io preferisco i valori classici, quindi per quello che riguarda ad esempio i miei settori privilegiati sono proprio in questo momento qui come scelta, sarei sempre per le banche, per gli energetici e poi un vecchio mio cavallo di battaglia, che è le automobili. Per quello che riguarda Enel, così rispondiamo a tutti, Enel purtroppo stamattina chi ha seguito il telegiornale, la prima notizia che hanno dato è che anche il governo italiano aumenteranno le bollette di gas e luce, aumenteranno di tanti punti percentuali, ma i punti sarebbero stati di più. Hanno detto questo, anziché il 40% aumenteranno del 29%, adesso non mi ricordo ben i numeri. Sì, 29,08 che sarebbe quasi arrotondiamo il 30%, questo per quanto riguarda l'elettricità e il gas aumenta del 14,4%, diciamo quasi 14,5%, nel senso anche dopo l'intervento di 3,5 miliardi comunque l'aumento è importante. Ecco, però c'è questo aumento con l'intervento e in qualche maniera, in qualche maniera, almeno la speculazione si pensa, è un po' quello che è un po' è successo già in Spagna con l'indesa, che questo sacrificio, diciamo questo aumento vada condiviso sia tra i cittadini e anche tra le società che, le utility, le società delle utility e quindi c'è un'attività regolatoria che entra nell'economia imponendo delle tariffe non coerenti con il fabbisogno o con i prezzi che vorrebbe o dovrebbe fare Enel in questo caso. Quindi, e finisco, in questo momento la speculazione sta punendo perché ha paura di un'attività molto importante regolatoria da parte dello Stato, anche italiano magari su Enel o su tutte le utilities, questo è già successo in parte in Spagna, le valutazioni che non faccio io però che leggo, sembrerebbero deporre a un essesso di preoccupazione, cioè va bene che c'è questa storia qui, va bene quello che volete, però un Enel che poteva stare 8 Euro adesso magari a 7,20, a 7,30, 6,78 il prezzo attuale forse è troppo penalizzante, però sappiamo come agisce la speculazione, come agisce il mercato, c'è una rottura di livelli e probabilmente adesso è un titolo che non va di moda, non lo butterei via a questi prezzi. No, si ha sofferto veramente, veramente, veramente tanto e qui infatti tanti ci hanno scritto appunto per capire cosa fare, tu hai già detto non lo vendiamo. Dunque Tony stiamo parlando di Reflation Trade che è molto, molto legato alle politiche monetarie, in questo caso anche della Fed, perché da parte della BCE non ci sono dei cambiamenti troppo importanti, gli annunci sono stati fatti soprattutto della Fed, consideri come rischio per i mercati ma anche per l'economia globale un possibile default di Evergrande, anche ci sono arrivate notizie oggi, Fitch ha tagliato il rating da WC a C, quindi questo è un step prima proprio del default, poi però abbiamo visto l'Evergrande stamattina in rialzo del 12,7% a Hong Kong dopo naturalmente aver annunciato che raccoglierà 1,5 miliardi di dollari con la cessione a una società pubblica di una quota detenuta di banca commerciale cinese e dunque vende una parte della propria società ad una banca cinese, questo è il primo passo verso la ristrutturazione, credo almeno. Quindi consideri Evergrande come un rischio o meno? Evergrande è un rischio importante ma non perché possa andare in default e non pagare gli oltre 300 miliardi di debito, ma è un rischio più di carattere economico, mi spiego perché, almeno questa è la mia idea. che Evergrande abbia tantissimi debiti, qualcuno dice 305 miliardi è una cosa incredibile, sono cifre enormi, però innanzitutto i debiti sono per le obbligazioni quotate nei mercati estere denominate in dollari e in tutto sono per 20 miliardi, quindi è questo che conta nei mercati, contano anche gli altri, ma questo essenzialmente. Tra l'altro le obbligazioni di Evergrande erano già denominate da parecchio junk bond, quindi non sono dentro quei fondi magari della previdenza sociale o dei fondi dove l'investitore voleva un investment grade, ormai di T-Rimple A ce ne sono poche, ma un investment grade. E quindi la natura speculativa dei detentori, dei fondi detentori, dei Evergrande bonds, 20 miliardi ripeto, è già predisposta a e potrebbe accettare un haircut, evidentemente non credo che non pagheranno nulla, ma ci sarà una negoziazione che secondo me, visto il valore dei bond di Evergrande di circa il 30% rispetto al valore nominale, potrebbe essere un haircut, un taglio, un accordo del 70% di sconto, sono tutte ipotesi così. La cosa che invece al mercato non gliene frega niente, diciamo al Nasdaq o allo standard in cui l'Italia, se ci sono milioni di signori cinesi che hanno anticipato i soldi a questo sviluppatore immobiliare, così il termine in italiano, usiamo il termine in italiano, a questo sviluppatore immobiliare che è Evergrande, non gli interessa niente, probabilmente ci sarà lo Stato cinese che per la prosperità comune e per tutto quello che sta dicendo Xi, aiuterà queste persone e quindi ok, il resto sono banche cinese che sostanzialmente sono pubbliche, ci sarà la stamperia pronta a salvare queste banche che poi sono pubbliche, quindi il problema non è enorme sotto questo aspetto finanziario tipo Lehman Brothers, non c'entra nulla, il problema però è abbastanza importante e questo più di medio e largo respiro perché la Cina è destinata a diminuire notevolmente il suo incremento, il suo sviluppo abituale di incremento di PIL, il suo PIL che poteva essere più 7, più 6, più 8, verrà ridotto perché dal momento che il signor Xi Jinping ha deciso strategicamente e ha fatto bene a mio avviso di far diminuire la percentuale di prodotti interno lordo del real estate, dell'immobiliare, del business dell'immobiliare che è raggiunto addirittura il 30% in Cina e si vuole ridurre questa percentuale a termini americani, tedeschi, europei, 15, 17, evidentemente perché vuole? Perché vuole uno sviluppo di alta qualità, vuole uno sviluppo di grande valore aggiunto, le case a breve periodo rendono perché tu fai lavorare alle persone, compri l'acciaio, compri il cemento, compri un sacco di roba e lavori e fai i palazzi e fai i PIL, ma dopo che hai fatto le case hai un investimento che non fa più ancora PIL, bisognerebbe fare magari più manifattura, più imprese, questa è l'idea di Xi, conseguentemente questo piccolo ridimensionamento, questo ridimensionamento dell'immobiliare a favore di un circuito più virtuoso comporterà momentaneamente una diminuzione dell'incremento, cioè il PIL cinese sarà sempre positivo ma un pochino meno e la domanda aggregata dei cinesi che ricordiamo sono solo un miliardo e quattrocento, gente che comincia ad avere dei soldi e che traina tantissimo la nostra Europa perché loro comprano tantissimo da noi, perché sono tanti, evidentemente potrebbe portare all'economia globale qualche segnale recessivo, questo è il vero problema secondo me che sta scontando la borsa e lo vediamo anche dall'indietreggiamento del prezzo del petrolio, il petrolio che scende è perché si ha paura che la Cina possa correre un po' meno, questo è il vero problema, di Evergrande e i suoi creditori pazienza, non credo che chi ha l'Enel o chi ha le generali ne freghi qualcosa. No assolutamente sì, si stava infatti facendo un discorso un po' più ampio nel senso per quanto riguarda i mercati globali perché la Cina è un ecoprotagonista importante, un contributor importante per quanto concene con l'economia globale e dunque ci lasciamo così per una brevissima pausa obbligitaria, ringrazio Tony Cioli-Puviani, tra l'indipendente, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione Tony. Alla prossima settimana, ciao Alexander, grazie dell'invito. Alla prossima settimana, grazie a tutti.